Sì, molto attesa, gradita anche perché il mio grande sogno era quello di ultimare l'iter legislativo dell'approvazione della proposta di legge per un momento contro l'andrangheta, quindi manco ormai abbiamo chiuso anche la copertura finanziaria, si può dire aspettiamo l'approvazione del bilancio per varare un provvedimento che tra l'altro ha già in sé tutte le novità legislative che sono state proposte adesso in Parlamento, penso anche all'accordo Stato-Regioni per quanto riguarda la materia della ludopatia, provvedimento sul Tribunale dei minori per i figli sottratte ai mafiosi, conosciamo la vicenda del Presidente Di Bella, quindi avanti tutta e speriamo tutto bene, la volontà c'è, i risultati li vedremo a breve. Non posso che ringraziare gli altri consiglieri per il prezioso appoggio che mi hanno dato anche i grandi suggerimenti, tanti aiuti che mi hanno dato in questa fase un po' pure tribolata, spero tra l'altro con l'attività e con i fatti di dimostrare alcune cose che la politica deve giustamente dimostrare, siamo chiamati a questo un impegno costante e speriamo che tutto vada secondo il corso naturale delle cose.